musica 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 allora mutiamoci il discord ma che c***o di maschera ti temer ma che c***o di maschera ti temer bro ti giuro che ce l'hai pure tu hello hello madafucka hello mnagno non so i tasti mia bea mi senti mnagno 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 du babi mnagno c***o di mnagno c***o di mnagno mnagno c***o di mnagno scrivi sul libro puoi scrivere sul libro can you write in the book ma sei stupido o cosa fa tu madre can you write in du c***o di book prima cosa mi giro mi sono i gradi e mi ha detto che sto sotto c***o beh direi che abbiamo una bella attività mentale sei al 30% tu 40% e mi ha lietato in faccia spegnendomi la luce arrivo giù con il cosiddetto allora bro questo è il mf ti sta attaccando ti sta attaccando tutti ah Oh signore, evviva! Evviva! Beh, che dire, folettine e folettine. Che dire? È stato un ottimo primo game! Che dire? Che dire? Che dire? Che dire? Che dire? Che dire? I ammigua che f***e! Ti vado la camera! Ti vado i bens! I ammigua! I ammigua! Vieni! Vieni! Vieni in la zona del bambino La zona del bambino C'è il bambino L'arte C'è un bambino In fronte di te L'arte C'è il bambino C'è il bambino and then you have to take it now you have to go down yes yes no 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 you have the cameraman go you have to die I have to die Hello Mugnano Mugnano Giupapi Giupapi Senti io sto Mezzo l'andata in prato Potresti non mettermi il culo in faccia Sì io ho infilato il termometro in culo Io te lo dico Ma mi attacca di uno e mi ammazza Ma mi sbraga Ma me sbraga di nuovo Buongiorno siamo di Sky Un'intervista Buongiorno Buongiorno siamo quelli di Sky Un'intervista Buongiorno siamo sempre quelli di Sky Un'intervista C'è la tavola Perfetto Basta fare domanda e foto mentre il robot si muove Chiedete dov'è Aspetta Sì Dove sei? Oh tu sei pazzo Devi far la foto Devi far la foto Living room Living room Living room Ok In entrata allora Tu sei pazzo Sì vabbè Sei in gas Sì vabbè Sì vabbè ti è morto è morto Sì. Sì. Beh, siamo... a posto, giusto? E pensa, non l'abbiamo nemmeno chiamata. Ah, guarda... Ci manca una foto al fantasma. No, no, ma io l'ho messo bene come temperatura. Cioè, come percentuale. Come temperatura? Prenditi la pillola. No, no, guarda, sono a posto. Come si faccia? Frate, il fantasma attacca quando si è da soli. Io eviterei di farsi entrare da soli. Ma non si mette a terra. Ciao. E che spalle di nuovo? No, ma è possibile! Ma non è fattibile però! Ma batte una f***a ingulata dei leoni! Dove sei? Dove sei? Sì, IMF5. Sì, IMF5. Sì, IMF5. Sì. Ma veramente? Sì, IMF5. DOROTHY se ci sei fatti vedere. Puoi scrivere sul libro. Puoi scrivere sul libro. Puoi scrivere sul libro. Ha parlato. Sì, ha parlato. Ha detto BLU. Oferi? Eh. Sì, ha parlato. Sì. Come ha fatto il ricordo? Nessuno Nessuno No Raga dovete port... Mannaggia Avete portato tutto giù? Ray sei morto Ray sei morto Ray sei morto Ray 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 Fuggi ti sta attaccando Amore se parecola cosa Non può sentirti Andiamo a vedere se Porca droga Povero Ray Beh Al 6% di sanità Io l'uno Grazie al caso Ha smesso di attaccare Ray Ray Ah 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 Quello che la getta Lo apre lentamente Che almeno non si apre Grazie Grazie Spirito puoi scrivere sul libro? Spirito puoi scrivere sul libro? Ho lanciato un oggetto Dove sei? Puoi scrivere sul libro? Ok Perché sempre me? Perché sempre me? Io non ce la faccio più Sto gioco di merda Ti ammazzo la... Ah mi sa che qua Ha aperto la porta il ragazzo Sì C'è un test Avete la foto? La macchina Dove siete? Sopra Sopra Ha aperto un botto di porte sopra Qua c'è il pupazzetto Vieni vieni Ah bisogna vedere qual è la stanza Sì ma ha aperto tutte le porte Quindi mi sa che è in giro Ma che è sto rumore? Ah il ventilatore Ha acceso il ventilatore Raga Ha acceso il ventilatore qua Ma dove? Sente caldo Qua c'è il ventilatore È sudato Versù Quals'i cosa Ah Oh Eeeh A luce Io anderei in cerca del contattore ragazzi Perché IMF al momento zero Ma il contattore dovrebbe essere sopra 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 E' qua E' qua il contatto Fatto In teoria un po' di luce l'ho accesa io in giro Si vede Eh cosa volete che vi prenda? Da giù Eeeh Orco 2 Che c'è Si? Allora Mugnagno 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 Si ha spento sua madre Ebbè Ritorniamo su Che c***o C'è su due passi Allora In teoria Lui ha fatto Il coso L'a Qua sto telefono Acceso Do you wanna Build a snowman? zamann Mugnagno jam Mugnagno Mugnagno hai spirito quanti anni hai spirito dove sei mi son cagato addosso figa voi non potete capire non avete fottutamente idea ma è stupido si ma vedi che mi è passato davanti era qua ok non parlo puoi parlo si era accanto a noi si era accanto a noi era attaccata a noi proprio incollata ragazzi avremmo 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 due di sanità mentale attacca sempre passi 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 ci sono le impronte rapa porta rapa porta impronte digitali impronte qua impronte qua foto in questa fotocamera di merda aspettate allora impronte nooo si era in me f5 è morto è morto neid nooo come ho fatto a me dire neid ma io beh lei prende un attimo una fotocamera si era in me f5 si era in me f5 scendo un attimo eh scendo un attimo eh si ma anche perchè c'è la salute al 20% ma io dove si stanno tutte le fotocamere allora allora oh mi f5 mi f5 mi f5 di ch qui a Ci sei? Ci sono Vabbè andiamo Dobbiamo mettere questa telecamera Vabbè andiamo Ci sei? Ci sono Un'accio Come sei? Sono tu Ehi Un'accio 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 Dov'è l'altra Ma senza tre piede non si fa allora Allora io metto Metto dots perché ho camminato con la cam Ma non c'erano sti fasci Metto che è un gorio E basta let's go Madonna raga mi sono cagato addosso Ok come va va La mia cenata ha detto che erano nei dots Eh ho messo gorio Comunque porca Lui spawnava Gorio era giusto